eccola qua una una improvvisata buongiorno a tutti e a tutte volevo condividere con voi questo bellissimo posto perché è veramente meraviglioso sentirete gli uccellini non era prevista la ripresa di conseguenza vedrete il movimento mosso tutto tutto voglio dirvi anzi ne approfitto voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'evento 2023 anche se avete praticamente occupato tutti i posti immediatamente ringrazio da Elia Menta che oltre a fare l'intervistatore si è sottoposto alle mie interviste ringrazio Giancarlo Infante per la presenza per l'umiltà e per tutto il lavoro che ha esposto ringrazio sempre in ordine più che alfabetico in ordine così a devo ringraziare ovviamente il nostro il nostro musicista swami nirav questa volta me lo ricordo che grazie a lui siamo riusciti a registrare tutto l'evento ringrazio Roberto Morini che un evento piccolo l'ha fatto diventare un evento grande tutti i video come ho già detto in altri video saranno disponibili da fine maggio massimo i primi di giugno a seconda di come riusciamo a editarli perché abbiamo avuto qualche piccolo problema e basta che devo dire devo dire a quelli che vengono a commentare quando vedono i video come quello che è stato pubblicato dove si vedono le cose lontane sul mare che scrivete e le maree come le spiegate come le spiegate come le spiegate voi che non funzionano questo me l'hanno insegnato ma non funzionano basta andare su indice alfabetico da www.tinelli.eu cercare maree o le crisse smantella tutto questo no guarda le crisse meglio che te le vai a vedere quante inciucciamenti hanno fatto nei vostri insegnamenti e quante idee sballate vi hanno messo qua dentro vi hanno iniettato ci sarebbero tante cose ma con oltre 2500 voci abbiate il coraggio almeno di andare a vedere le parole sotto il perché perché ci mentono perché ci vogliono mentire perché continuano che altro vi devo dire anzi vi faccio vedere qualcosa che è da questa parte perché io cerco di guardare anche nell'obiettivo però guardate che meraviglia in questo posto pertanto che altro dobbiamo dirvi e ci sono delle cose che sarebbe bello venire a proprio a casa vostra ma non perché venire a casa vostra perché così potrei spiegarvi molte cose non dimenticate di seguire the secrets of the world il canale alternativo che vi spiega tante cose ciao un abbraccio a tutte e tutti I love you